Lo scavo di quest'anno ha portato alla luce alcuni ambienti di grande importanza che sono visibili, cioè stanze con pavimenti sia di mosaico sia soprattutto in opusectile, cioè in lastre di marmo e sono marmi preziosi che vengono da tutte le parti dell'impero. Diciamo che abbiamo una certa sicurezza, insomma, anche perché non ci sono alternative e questa è la villa dove è nato Vespasiano. E right in that area of the lake of Nero, which was for his private dwelling place, Vespasiano built the Colosseo, which is the most famous monument in Rome, one of the most famous monuments in the world. Si lascia la scheda, se vuoi fare la scheda e quindi si riempie Oh, che malo Con il che passo? Sì, è un impiatatore Perché il ritrovamento casuale di questa pietra ha coinvolto poi istituzioni importanti come l'Università di Perugia, la British School che hanno iniziato gli scavi Sì, è un impiatatore Sì, è un impiatatore Grazie.